Tante voci si alzarono in città che alla fine misero tutti d'accordo, sicuramente all'interno delle solide mura di Palazzo Moroni. Si ha un parcheggio nell'ex caserma Prandina, ma con alcuni se. Non parlerai di compromesso nella misura in cui abbiamo sempre detto che l'atteggiamento è quello di utilizzare lo spazio in modo intelligente. E questo stiamo cercando di fare con uno studio su quella che è la capacità della zona di assorbire un attrattore di traffico come un parcheggio. E quindi con delle simulazioni cerchiamo di capire quale sia la dimensione ottimale di una struttura di parcheggio all'interno delle mura. Una zona delicata, quella di Corso Milano, dove facilmente il traffico potrebbe andare in tilt. Un sì al parcheggio, ma condizionato a uno studio sui flussi di veicoli. Un parcheggio in una città come Padova, che ha una struttura che è stata disegnata qualche secolo fa e quindi ha delle vie d'accesso con portata limitata, è necessario procedere con l'intelligenza ed evitare che il traffico di coloro che vanno a parcheggiare si sommi con il traffico dei pendolari che transitano. Sommare questi flussi di traffico può portare a delle situazioni di congestione importanti che non consentono di fatto alle persone di muoversi. E questo sarebbe un autogol incredibile che dobbiamo assolutamente evitare. Lo studio sarà affidato ai tecnici del comune. Finora non ci sono stati problemi con la gestione dei 250 posti attuali e la sicurezza che diventerà a pagamento il parcheggio potrebbe porre una sorta di limitazione naturale degli accessi. Sul numero di posti però il vice sindaco non si sbilancia. Noi stiamo lavorando ad un piano dei parcheggi che dia una soluzione definitiva al tema dell'accessibilità del centro storico. Questo è uno dei punti in cui le auto potranno parcheggiare. Fare un numero adesso non avrebbe alcun senso.